questo è mio padre che dipinge nel suo patetico bellissimo studio ecco, il tuo padre che prende vai fatti un giretto, poi riprendi già fatto con io nel suo studio c'è un video bellissimo, tu non capisci ecco, allora invece di ribattere su ogni cosa che faccio trovo la gamma di colori questo rosso qua lo faccio vedere così qua qua così qua così e qua così riprendi il coniglio spostati stai oscurando la pelle il mio bel coniglietto ma pure è una rettina vai 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 adesso qual è che si adesso dipende 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 guarda di qua ecco io ecco io prenderlo ecco io ecco io allora dipinge siamo a un minuto e due minuti pari basta 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 stop